Colai, che avevamo sentito anche qualche tempo fa, oggi grande prova, grande vittoria e anche gol di Colai. Sì, siamo molto contenti perché abbiamo fatto una grande partita, come ci aveva chiesto il mister. Sono arrivati tre punti, siamo contenti, stasera festeggiamo e da domani pensiamo subito a Catanzaro. Oggi si è visto il Pescara di Zeman, delle belle triangolazioni, delle grandi giocate, tre gol. L'unica pecca è aver mancato, soprattutto nel primo tempo, alcune occasioni. La squadra è stata presente, è stata viva per 90 minuti. Sì, come ho già detto, stiamo cercando di capire quello che ci chiede il mister. Speriamo di riportarlo in campo il prima possibile. Quando aspettavi questo gol, Ristit? Tanto, tanto, sono sincero. Era tanto che cercavo questo gol. Sono contento che è arrivato oggi e sono contento ancora di più perché è arrivato con una vittoria. I giorni scorsi Zeman aveva speso parole importanti perché aveva detto Colai è un giocatore che tengo in considerazione. Zeman ti sta dando spazio e oggi lo hai ripagato con una prestazione sicuramente positiva. Ti abbiamo visto anche andare a contrastare, andare verso il portiere avversario per cercare di riconquistare palla. Quello che vorrebbero vedere tutti gli allenatori? Sì, sono molto contento che comunque sto avendo più spazio. Io mi metto a disposizione, mi alleno, cerco di dare sempre il massimo. Per poi se mi viene data l'occasione la domenica spero di farmi trovare sempre pronto. Sul fatto di andare a pressare è quello che comunque ci sta chiedendo il mister, di attaccare in avanti. Quindi allora è giusto andare così avanti. Come ti sei trovato con Merola e Lescano? No, no, mi sono trovato bene. Comunque con tutti i giocatori ci troviamo bene. Dobbiamo solo cercare di capire bene quello che ci chiede il mister per riportarlo in campo. Domenica gara a Catanzaro, Catanzaro promosso in Serie B. Troverete uno stadio strapieno, grande entusiasmo. Però Pescara dovrà cercare di far punti anche in casa della capolista. Certo, certo. Sicuramente loro hanno vinto il campionato. Faccio a loro i complimenti perché sono una squadra molto forte. Però noi da domani dovremmo cercare di pensare alla gara contro Catanzaro.